2 miliardi di fatturato e 35 mila aziende produttrici, questi i numeri dell'agroalimentare marchigiano che si è presentato all'edizione 2022 di CIBUS alla Fiera di Parma. Le marche hanno un potenziale enorme, dichiara il Vice Presidente della Regione, nonché Assessore all'Agricoltura Mirko Carloni, che nasce dall'eccezionale orgoglio impresso dai nostri imprenditori e ora dobbiamo raccontare questa straordinaria storia tutti insieme. Venire a questa fiera sicuramente è un'occasione molto importante, importante per i produttori, in una vetrina internazionale che può permetterci di ulteriormente migliorare quella che è la situazione anche di scambi commerciali, quindi del commercio per le nostre produzioni. Dopo due anni di pandemia si ritorna un po' in libertà e quindi le opportunità, anche visto oramai i visitatori che ci sono, sono opportunità importanti e le nostre eccellenze le abbiamo portate proprio qui a Parma, le nostre eccellenze marchigiane e sarà l'occasione appunto per ulteriormente migliorare quelli che sono gli aspetti di valorizzazione dell'intero territorio regionale delle marche, una regione come sappiamo di grande qualità in modo particolare per le produzioni dell'agroalimentare. Sono 45 i produttori marchigiani presenti in fiera, sia individualmente che negli stand messi a disposizione dalla collettiva Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, Azienda Speciale Linfa, nel padiglione 7-8 Stand F. La partecipazione al Salone Internazionale dell'Alimentazione del Made in Italy è stata sostenuta con un contributo regionale di 30.000 euro e con altri 30.000 euro camerali che hanno coperto oltre il 50% delle spese organizzative delle imprese presenti in fiera.